Buongiorno e ben trovati con la nostra rassegna stampa domenica 31 marzo. Buona Pasqua a tutti i nostri telespettatori. Andiamo subito in Abruzzo per ascoltare il messaggio proprio in occasione della Santa Pasqua di Monsignor Tommaso Valentinetti, vescovo dell'Arcediocesi di Pescara a Penne che dice schieratevi in favore della pace. Sentiamo Valentina Ciarlante. Non solo venti di guerra ma veri e propri scenari che hanno riportato l'Europa in un clima che sembrava non potesse tornare e che invece diventa teso ogni giorno di più. In questa fase così difficile e delicata la Pasqua acquisisce ancora di più un significato alto. La rinascita e la costruzione della pace sono i temi al centro del messaggio chiaro e perentorio lanciato dall'Arcivescovo di Pescara Tommaso Valentinetti. Il preesule ha chiesto a tutti di schierarsi senza sì e senza ma. Non giustificare mai la guerra perché con la guerra tutto è perduto, con la pace tutto è guadagnato e le ultime parole riprese dagli antichi romani, si vis pacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra, è una frase anacronistica perché dopo duemila e più anni di civiltà non possiamo più assolutamente tollerare un discorso di questo genere. Perciò l'augurio è che siamo operatori di pace, prima di tutto fra di noi, nelle nostre realtà, ma poi che ci schieriamo decisamente dalla parte della pace. Questo non è pacifismo, ma è sostenere anche le parole di Papa Francesco che sta richiamando continuamente alla dimensione della pace, alla dimensione del dialogo, alla dimensione della trattativa. Auguri a tutti, buona Pasqua. Ed ora il calcio, la Lega Pro con la vittoria del Pescara a calcio per 1-0 dopo sei anni. Dalla retrocessione il Cesena è tornato in Serie B a quattro partite dalla fine del girone B di Lega Pro con 14 punti di distacco dalla Torres. Gli Emiliano Romagnoli guadagnano aritmeticamente la promozione del campionato cadetto vincendo sui bianco-azzurri. Buona comunque la prestazione del Pescara con mister Cascione che ha riproposto la formazione che sabato scorso aveva prevalso sul Ponte d'Era. Il successo dei padroni di casa è arrivato grazie a Pierozzi che all'87esimo minuto ha segnato su Assis di Donna Rum davanti a 15.000 spettatori. Ora con la vittoria del Gubbio sui Sardi, secondo in classifica, il distacco tra il Pescara e gli Umbri è di sei punti e con solo quattro gare da giocare appare ora difficile il piazzamento in chiave play-off. Ed ora le prime pagine locali e nazionali. Andiamo subito a vedere come titola la prima pagina di Primo Piano Molise. In apertura di Primo Piano Molise c'è la Pasqua del Presidente Roberti con gli occhi sul mondo, dice Primo Piano, nell'augurare sante e serene festività ai molisani. Il Presidente si sofferma sui conflitti bellici in corso. Le guerre non risolvono nulla, spero soffino presto venti di pace. Il Governatore che fa suoi gli appelli di Papa Francesco sia restituita ai bambini nella libertà di tornare a giocare. E poi il punto a cura del direttore Luca Colella, il punto è sulla politica locale e sulle elezioni non sempre vince il migliore, è l'analisi del direttore Colella in relazione al voto che ci sarà a giugno, e quindi il voto delle europee e soprattutto delle prossime amministrative. E poi con la fotonotizia, l'atto di fede degli incappucciati, la tradizione che fa vibrare cuori, emozione e suggestione ad Isernia per il rito che unisce mistero e dolore. La cronaca da Campomarino ruba un'auto, c'entra una rotonda, sperona la gazzella e scappa a piedi. Un 26enne finisce in manette. E poi la peronospora, i viticoltori bene, l'Unione Europea ma non basta, servono aiuti straordinari. Da Isernia vende Ascic ad una giovane del posto, 29enne fermato ed arrestato. E poi sempre la politica, le amministrative, la fuga in avanti per stanare gli alleati Mileti lancia la rinascita di Termoli, oltre le frizioni nel Partito Democratico, i malumori di coalizione. Chi vuole mi segua. Le notizie sotto la testata di Primo Piano Molise, con lo sport Campobasso per Golizi resta ottimista. Ripartiamo dalla ripresa di Fossumbrone. Basket, grande Magnole, alla formazione dell'Under 19, si laurea campione d'Italia. E poi la pallavolo Final Four, assegnati trofei tricolore nelle categorie di B1 e B2. Ed ora dal Molise ci spostiamo in Abruzzo e andiamo a vedere la prima pagina del centro. In apertura del centro c'è la cronaca, morto in casa a 16 anni, dice il centro, Roseto, il fratello più piccolo, lo trova in camera con una cintura al collo. Le ipotesi, gesto estremo, tragico, gioco, sequestrati PC e cellulare del ragazzo. E poi lo sport, il Pescara Brilla, ma si arrende nel finale Cesena in Serie B. Ancora l'intervento di Bruno Forte, questa Santa Pasqua che segna un nuovo inizio, appunto, l'intervento dell'Arcivescovo di Chieti. Vasto. E poi gli ubriachi alla guida, ritirate otto patenti, il Pescara controlli della polizia nelle aree della Movida, sequestrate due auto. Doppia tragedia. In Abruzzo due vittime sulle strade, motociclista muore e un'anziana si schianta a Lanciano. Ancora da Pescara Sud, martedì via al cantiere per demolire lo svincolo. Le notizie sotto la testata. Dall'8 aprile i lavori sulla costa, treni via i cantieri per rendere più sicure le gallerie in Abruzzo, dice ancora il centro. E poi Marsilio Bis, giunta entro venerdì con l'incognita di quagliere. Dalla prima pagina del centro ci spostiamo ora a vedere la prima pagina del messaggero dedicata alla regione Abruzzo. Culle vuote, dice il messaggero, è record a Pescara, 11% in meno di neonati rispetto al 2022, è il dato più alto in Italia. Gli stranieri non compensano la decrescita e si allunga però la speranza di vita. Dal carcere di Teramo lo stupratore, come vicino di Cella, 17 anni fa era amico della madre. Poi il blitz ruba nel cantiere della scuola e poi viene preso a Pescara. Anche qui la foto notizia, la serie C, il Pescara che beffa Cesena sconfitto 1-0 nei minuti finali, tante chance per il Pescara. Masolfi decide, rapa e tondonati. E poi la cronaca si impicca, 16 anni, ipotesi, la sfida del web, PC sotto sequestro, sui social, gioco a chi trattiene di più respiro lo studente che viene trovato in camera dal fratellino. Da caso le ha ucciso la moglie, Michael Whitbread, estradato da Londra, dice ancora il messaggero e poi la vetrina Giro d'Italia, Vezzano, che veste in rosa. Le notizie sotto la testata del messaggero, il ponte di Pasqua e Pasquetta, le cose da fare nella regione. E poi da Carsoli il motociclista che cade e muore attraversava la cittadina Bobbing, avviso di garanzia all'ex presidente della DSU. E ora dalle notizie dell'Abruzzo ci spostiamo alle notizie nazionali riportate sui principali quotidiani, le principali pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito dal Corriere della Sera, in apertura del Corriere, gli equilibri internazionali, la guerra in Ucraina, armi e zeleschi contro gli USA, persi mesi, datici i missili, rischio di escalation, l'Italia smorzare i toni, la guerra, Crosetto, italiani appello alla cautela, Nato, il capo militare, dobbiamo essere pronti. E poi la professoressa detenuta. in Ungheria, Salis e Mattarella, il presidente Mattarella che chiama il padre e dice disparità di trattamento. E poi ancora da Israele il governo sulla normale, no al boicottaggio, il caso parla la ministra. Bernini, la fotonotizia di Vasco Rossi che racconta la sua storia, mio padre è morto di fatica, la sua perdita mi ha cambiato dentro, dice sul Corriere il Cantante. E dal Corriere della Sera ci spostiamo ora a vedere la prima pagina della Repubblica. In apertura della Repubblica i collusi di Gomorra, ci sono le confessioni di Sandokan sulla prima della Repubblica. Gli inquirenti si attendono da schiavone e rivelazione sui nomi degli imprenditori e dei politici che aiutavano le cosche. Sono già cinque. Gli interrogatori del boss potrebbe fare luce anche sulle stragi. Sono un uomo d'onore, dirò la verità, intervista a Conte. Questo governo fa la lotta ai magistrati antimafia. Anche qui il caso Salis e il presidente Mattarella che dice sono vicino e l'aria, speravo in giorni diversi. L'intervento a cura del direttore Maurizio Molinari convivere in Medio Oriente la lezione di Grossman e poi la fotonotizia dei calciatori del Napoli che si mettono in ginocchio contro il razzismo. Dalla prima della Repubblica andiamo ora a vedere la prima pagina del Messaggero. In apertura del Messaggero troviamo la guerra e ovviamente troviamo la politica internazionale. Putin segnali di debolezza, l'intervista al ministro degli esseri italiani, minacce da Mosca per distogliere l'attenzione dall'attentato. Israele si fermi a Rafa e a Mas. Liberi gli ostaggi, preoccupa l'ondata di antisemitismo. E poi una notizia che arriva dal Bruzzo e ovviamente finisce sulla prima del Messaggero, il ragazzo suicida a 16 anni, la Procura che indaga sulla sfida dei social. Lo studente che è stato trovato davanti al computer si era stretto la cintura al collo e poi il debutto vincente del tecnico per quanto riguarda la Juve battuta 1-0 nel recupero dal Lazio all'ultimo respiro. E in taglio alto invece troviamo ovviamente ancora la politica internazionale, gli equilibri internazionali, bombe su gli osservatori ONU, quattro feriti in Libano, l'attacco avvenuto al confine, Israele non siamo stati noi. Dalla prima del Messaggero alla prima pagina del Tempo. Sulla prima pagina del Tempo troviamo l'inchiesta El Fire Parma sul Covid Las Precopoli Emilia dice il Tempo indagini e sequestri all'ospedale Maggiore al setaccio le maxispese in tempo di pandemia sotto accusa la sanità di Bonaccini e Schlein e poi la bufera sui dossier il suicidio che tinge il caso austriano di Giallo ancora il sondaggio con la sfida di Confindustria Orsini che è in vantaggio. Andiamo ora a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano In apertura del Fatto Quotidiano troviamo la legione straniera per arruolare migranti sempre più guerra dice il fatto l'esercito che cerca volontari per la patria gli stati maggiori attendono l'assenso di Crosetto l'idea è quella di ingaggiare i giovani venuti da fuori in cambio dell'anticipo della cittadinanza dalla prima del Fatto Quotidiano alla prima pagina del manifesto andiamo a vedere come titola il manifesto e troviamo sul manifesto la fotonotizia del presidente Mattarella il richiamo dice il manifesto con una telefonata al padre di Ilaria Salis Mattarella interviene per raddrizzare la linea del governo e la seconda volta a stretto giro dopo Pioltello stavolta il capo dello Stato riconosce che la nostra concittadina nel carcere di Orban sta subendo una disparità di trattamento e dà la colpa al sistema ungherese il governo amico di Meloni non è ispirato ai valori europei dalla prima del manifesto alla prima pagina della verità sulla prima pagina della verità troviamo la stessa notizia la stessa apertura dedicata ovviamente alla telefonata del presidente Mattarella che usa la Salis secondo la verità contro la Meloni il padre di Laria le prova tutte per portarla a casa comprensibile meno spiegabile dice la verità la chiamata al Quirinale che promette impegno sul caso e l'indipendenza della giustizia e le carcerazioni ingiuste in Italia chiede ancora la verità sembra più una mossa per smarcarsi dal governo e poi la guerra con Zelensky che è in difficoltà si lura alla sua cerca e gli mancano le armi dice la verità dalle notizie riportate sulla prima pagina della verità ci spostiamo ora alle notizie di economia che troviamo sulla prima pagina del sole 24 ore sul sole 24 ore troviamo la sanità e le liste d'attesa il maxipiano che taglia i tempi dice il sole agli ospedali con le code più lunghe 600 milioni stop fondi a pioggia le regioni il finanziamento per il lavoro extra del personale o per le prestazioni dei privati e poi il bonus edilizi rischio dichiarazioni per i mini condomini il decreto fiscale poi ancora il mercato dell'auto e la grande crisi in Germania investimenti per 55 miliardi l'anno dalle notizie di economia alle notizie di sport con la prima pagina della gazzetta dello sport oro le audice la gazzetta dello sport con il milan che vince anche a firenze secondo posto blindato assist di itaco e gol decisivo per il quarto successo di fila all'inter domani per tornare a più 14 e poi la juve ko con la lazio solo 7 punti 9 gare allegri così rischi perde ancora terreno nella corsa per la champions i numeri sono brutti serve subito una reazione anche qui il napoli poi in ginocchio prima la protesta e poi cade con l'atalanta e con le notizie di sport la nostra rassegna stampa termina qui prima di lasciarci però vediamo la programmazione di oggi su teleregione canale 17 alle 10.30 la santa messa di pasqua dalla cattedrale di isernia e poi alle 12 viva la musica con gigione alle 14 torna come sempre puntuale la nostra informazione il nostro telegiornale con il direttore Pierluigi Boraggine poi alle 16 e 15 un nuovo appuntamento di conto alla rovescia il programma condotto dal collega Pasquale Damiani alle 18 il teatro e poi alle 19 e 30 come sempre l'informazione della sera che ritorna puntuale alle 23 mentre alle 21 non perdete l'appuntamento con la trasmissione della collega Rita Iacobucci con salute ai Ragix e con questo è davvero tutto grazie per essere stati con noi io vi do appuntamento al telegiornale delle 14 buona Pasqua ancora ai nostri telespettatori grazie a tutti Grazie a tutti.